È arrivato il via libera da parte della Commissione Ars all'aumento degli stipendi per i forestali. Ha espresso soddisfazione l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino per il lavoro della Commissione Bilancio all'Ars che ha approvato l'articolo della finanziaria con lo stanziamento di 22 milioni di euro per l'adeguamento dello stipendio dei forestali, una misura che restituisce dignità a questi lavoratori, ha detto, e un primo segnale importante del nuovo corso del governo Schifani. L'attenzione da parte mia è massima. Un primo importante passo è stato raggiunto, anche grazie al dialogo con i sindacati. Adesso la manovra procede a spedita per l'approvazione in aula. Non si è fatta intanto attendere la replica dei lavoratori forestali con Antonio David, operaio e responsabile del sito di Forestali News, che definisce la manovra un contentino e che a un aumento di 50 euro non risolverà i problemi. Certamente è ben accetto l'adeguamento contrattuale dovuto a tutti noi forestali, dopo anni di disparità, anche rispetto ai colleghi delle altre regioni, con una non applicazione del contratto nazionale, ma non è questo contentino, ha concluso, che ci aspettiamo dalla nostra regione. Grazie. 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 Grazie.